Un metodo innovativo, scelgono i cittadini. Nel prossimo giorno inizieremo delle consultazioni attraverso il web, in cui prima spiegheremo le varie possibili leggi elettorali e poi i cittadini potranno scegliere. È un metodo rivoluzionario. Finalmente la legge elettorale non sarà più fatta all'interno delle segrete stanze, ma verrà fatta dai cittadini.